Cosa proponete per una soluzione che sconfigga il precariato, soprattutto sul sostegno, con oltre 100.000 cattedre date in deroga? Dove la situazione è la sequente, si vedono i gradatori del sud esplodere di specializzati, 27.000 docenti specializzati sul sostegno, ci si vuole anche in area, per provincia. Il gradatore del nord invece è andato a chiamare i docenti più specializzati sul sostegno a nemmo lavorare i ragazzi notabili. Questa storia deve assolutamente finire. In più il governo ha la certità di programmare sulla base dei numeri dei posti disponibili i percorsi di specializzazione che ad oggi vengono privati di qualsiasi valenza formativa e juridica, perché purtroppo i nostri corsi sono stati equiparati nei titoli senza valore legale. Ad oggi sono assognata. I titoli non riconosciuti non dispiagano i propri effetti all'interno dell'ordinamento juridico italiano, ma nonostante questo il ministro dell'Istituzione del Merito ha fatto sì che queste persone possano insegnare al campo dei nostri esercizi. Io rispetto a un'informazione certificata senza un'informazione di qualità.